Benvenuti, sono Arcadina Hammer e siamo qua per le Arca News che saranno, usciranno martedì mattina e non lunedì perché per diverse ragioni è tardi lunedì e non voglio che esca alle due di notte, insomma parliamo comunque delle notizie fondamentali di domenica sera, lunedì mattina, ovvero gli Oscar e commentiamo anche i razzi oltre al box office, quindi una bella puntata secondo me intanto saluto Frank, ciao Frank Ciao Arca, felice di essere qui ovviamente, dopo la sera nottata per voi, per me la serata passate insieme quindi ci sarebbe ancora un po' di cose da dire sui Oscar, magari due chiacchiere le facciamo ancora Sì sì sì, perché voglio commentare categoria per categoria per capire se siamo soddisfatti, più o meno soddisfatti e cosa avremmo cambiato, va bene, prima di andare avanti vi invito a iscrivervi sia al mio canale che a quello di Cinefranc abbonarvi sia al mio canale che a quello di Cinefranc, insomma entrare in contatto con entrambi i canali anche se Cinefranc aveva promesso delle recensioni che ancora non sono Lo so, però ho dedicato il tempo più all'altro canale Valinor che devo portare avanti più dell'altro Cinefranc Vabbè ma tornerà, sono sicuro che per insultare Barbie ci sarà un video bello pronto, già bello montato che farà uscire a breve, a giorni Ormai è sport preferito Esatto, e oggi possiamo insultare abbastanza Barbie in modo legittimo se mi permettete, quindi direi di incominciare con il box office che è interessante, c'è una nuova giunta a livello mondiale io vedrò questo film, ovvero Kung Fu Panda, domenica il quarto, ovviamente in anteprima al mio cinema, lo danno, in America è già uscito quindi se Frank vuole andare a vederlo, può farlo quindi box office, USA, mondo, quinto posto no, no, si scherza, non l'avete visto quinto posto, Bob Marley, One Love che ha rallentato un po', 70 milioni di budget, 160 ha avuto una leggera pendenza, visto Dune e Kung Fu Panda ed è solo quinto quarto posto per questo Cabrini che non ho capito bene che film sia provo a leggere la trama dopo un periodo di povertà e di malattia a New York, gli italiani immigrati Francesca Cabrini cerca di, insomma, salvarsi e aiutare degli orfani 50 milioni di budget, abbastanza per un film che è incassato solo 7,5 milioni vediamo se si sa bene di chi è questo film Cabrini, perché io non... che è uno sconosciuto Aleando Monteverde ah, sì, è lo stesso di Sound of Freedom quello che ho visto l'altra volta quindi anche... ah, io credo che sia di quella casa di produzione religiosa, cattolica e in effetti potrebbe essere vabbè, comunque quarto posto budget un po' altino, eh però poi c'è il nuovo Horror Imaginary che da noi in Italia arriva giovedì costato 10-12 milioni visto, ok incassato 10 il triplo lo fa eh, tu sei raccomandato e ti darò ti darò la... ecco, ancora una volta il signor H si becca la mia opinione in anteprima piuttosto che girare 7 minuti di video da... perché mi vuole bene l'anteprima sul mio canale ottimo poi di un parte 2 190 milioni di budget 367 può... può far bene io confermo i miei se è 50-700 milioni anche se c'è il nuovo arrivato primo posto Kung Fu Panda 4 85 milioni di budget è un mistero questo perché gli altri film di Kung Fu Panda erano almeno 150 milioni di budget sarà vero che è costato così poco? comunque in cassa prima settimana 80 milioni che non è malissimo dopo... no, lo dico adesso vi dico le altre posizioni così Cinefranco può commentare uno si chiederà ma che fine ha fatto il bellissimo film Madame Web settimo 96 milioni farà meno di Blue Beetle secondo me a questo punto io ci punto che farà 105-110 milioni al massimo e meno di Shazam 2 o ancora chi c'è in classifica? Wonka ancora ottavo 625 milioni Argyle Argyle 94 milioni che flop mi dispiace Purfinks oltre il tiplo 108 milioni sono belli e rilassati Lantimos e Enfrens poi Zono Vinteres il grande amato Zono Vinteres 24 milioni ma forse la caduta più grossa è Drive Away Dolls che abbiamo che ho portato sul canale uscito in Italia il nuovo film di Ethan Coen 5 milioni massacrato da pubblica e da pubblico e critica e basta essenzialmente questo gli altri sono vecchi titoli parto dal basso Bob Marley non l'ho visto non mi interessa non è né artisticamente né come cinematograficamente quindi rispetto per Bob Marley non ho poco ben poco da dire Caprini nemmeno questo l'ho visto come diceva Arca non ho capito bene la trama in realtà di sto film esattamente di che parla non manco quello no parla di questi immigrati italiani che nell'America degli anni venti devono salvare dei bambini sarebbe interessante vedere sarebbe interessante vedere lo vero per questa cosa all'immigrata italiana però non so in una novità di come recuperarlo perché al cinema qui vicino non lo non lo trasmettono quindi devo vedere un po' e Imaginary allora l'ho visto pochi giorni dopo l'uscito che qui negli Stati Uniti è uscito prima in Italia con un mouse mediocre niente di più niente di meno è una versione ancora più mediocre di Megan ma invece della bambola c'è l'orsacchiotto siamo lì ci sono qualche cringiata la regia ma un po' un po' mie la storia è la solita bambina pupazzetto famiglia del merda insomma solite cose già visto e rivisto tra l'altro la cosa la cosa più spaventosa che si vede in questo film è dovebbe essere un horror la cosa più spaventosa è una forbice infilata in una mano questa è la cosa più spaventosa che però c'è tipo così questa è la cosa più spaventosa che si vede in questo film vabbè ma è Blue Mouse Blue Mouse ecco è a Blue Mouse per i ragazzini quindi poi già sai cosa aspettarti di un parte due sta andando lento posso dirlo che si è frenato un po' almeno oh sembrava mangiarsi tutto in seconda settimana ha fatto 667 milioni non è però mi aspettavo anche un po' di più però vabbè magari poi ci arriva quanto tu quanto prevedi ci arriva a 600 secondo te penso di sì per me fa anche 700 sulla lunga distanza fa anche 700 eh ma rimane sotto per i miei barri quindi per un sì vabbè quello sì ma mica salmi di giardo ma questo non va bene perché sarebbe dovuto essere il blockbuster nel 2024 questo loro oh parlando e facendo stiamo già a marzo metà marzo non è il titolo che farà il migliore incasso dell'anno loro devono fare 600 milioni per guadagnare ok se se di un parte 2 non fa il migliore incasso 2024 chi lo fa abbiamo saranno altri c'è Deadpool Deadpool che tutti aspetti che Deadpool faccia un miliardo sì sì secondo me arriva tra i 500 e gli 800 e poi ci sono i film che ancora non sappiamo che devono uscire che magari sì ma i grandi blockbuster attesi non ce ne sono c'erano Dune Dune parte 2 era il più atteso non c'è Cameron non c'è Spielberg non c'è nessuno dei grandi reggistoni commercialoni Nolan non c'è ovviamente Logan Wolverine e Deadpool ma sicuramente farà un grande incasso però a parte che va considerato un blockbuster Logan cioè io per blockbuster costa 200 milioni sì 200 milioni è costato Logan ma tutti i film della Marvel costano 200 milioni vabbè però quelli dove ci sono grandi effetti speciali non lo so quanti effetti speciali ci potrebbero essere ora te lo dico vediamo poi vedremo comunque vado avanti allora mi aspettavo forse qualcosina in più da Dune parte 2 anche dopo due settimane però vediamo vediamo a quanto arriva uno dice vabbè Frank sta già a quasi il doppio non c'è arrivato ancora il doppio ma ci sta quasi eh ma è Dune parte 2 torno a ripetere Dune parte 2 l'operazione di marketing che hanno fatto è clamorosa ci hanno fatto un'operazione di marketing senza precedenti ti posso dire la verità io ho visto più persone al cinema ma adesso che sono andato a vedere imaginary che per Dune parte 2 Dune parte 2 la sala era mezza piena per imaginary è probabilmente la prima volta che ho visto la sala piena ma l'ha guadagnato e guarda che è uscito da pochi giorni guarda quanto ho già fatto quella è il classico la classica strategia Blue Mouse low budget marketing ma farà 100 milioni ne hanno spesi 10 e sono tranquilli Kung Fu Panda Kung Fu Panda è un classico dell'animazione che va visto e basta perché comunque è simpatico il cool Panda ciccione che gli fa ridere fa sempre ridere ci sta dai io ancora non l'ho visto per quanto appunto qualche giorno fa volevo andarci a vedere uno dei due o Imaginary o Kung Fu Panda ci siamo visti Imaginary il prossimo secondo me ci vedremo Kung Fu Panda e ti saprò dire è questo essenzialmente Madame Web ha già finito perché 96 milioni ma è la quinta settimana quasi ma quanto quanto era di budget Madame Web 100 milioni fra gli 80 e i 100 e quanto ha fatto fino adesso 96 vi ricordate Blue Beetle tanto preso per culo che ha finito con 110 milioni ecco ed è stato preso per culo pensate un po' ah lo stesso Morbius che è stato preso in giro che ha fatto 130 120 questo è 96 sì farà qualche altro soldino perché se rimane altre tre settimane 10 milioni spero che li faccia ma 100 milioni quanto può fare in Italia invece come siamo messi ma più o meno simile tolto che manca qualche titolo comunque di un parte 2 comanda con i suoi 7 milioni quasi incassati fino ad oggi in Italia vai un altro ferragosto recensione sul canale orribile film di Virziche traccata sti spicci 846 mila euro la zona di interesse con i suoi quasi 3 milioni sta piacendo in Italia Emma il giaguaro nero ancora lì incredibile quarto visto in Italia non si sa bene il perché sarà che c'è questo giaguaro molto carino sala professori 2 spicci Bob Marley si è fermato sesto poi c'è questo documentario che avrei voluto vedere ma non penso che ne valga la pena comunque chi ne iucca la scoperta del mondo due volpi nel mondo dell'Artico c'è questa specie di documentario dove c'è sta voce che ti spiega cosa fanno sembra carino ma me lo vedo su piattaforme onestamente non mi voglio andare al cinema per questo poi 8 Red che è tornato al cinema 170 mila euro di incasso già non piaceva su piattaforma ma che è venuto in mente alla Disney non ho posto per past leaves quasi 3 milioni ma alla fine e povere creature che sarà anche decimo ma ha incassato 8 milioni e mezzo in Italia Frank vuoi dire qualcosa se andiamo alla ciccia no poco da dire perché perché io questi film purtroppo in Italia ovviamente io non li ho visti a me manca la sala professori Emma un altro per ragosto non ho visto nessuno di questi film quindi ho niente da dire mettiamo prima Razia Wars dai non so se sapete cosa sono i Razia Wars sono i peggiori film dell'anno secondo l'Academy è sempre divertente vedere che cosa c'è vediamo se abbiamo la pagina di wiki che è bella utile Golden ecco Razia Wars sì ma voglio del 2024 vabbè ve li dico così va diciamo in fretta perché non riesco a trovare la pagina bella pulita come per gli Oscar che vi mostro dopo il miglior film come altri premi lo vince Winnie the Pooh Blood and Honey grande film che sta su Prime Video se lo volete se lo voleste recuperare vince diversi premi fra cui miglior regia cioè seggior regia vincendo contro David Gordon Green dell'esorcista Il Credente Peyton Reed di Eddie Antman e Quantumania Scott Vaughn di Expendable quindi i Mercenari 4 e di Meg 2 che secondo me non meritava comunque vince anche il peggior film con titoli simili solo che nel peggior film c'era anche Shazam 2 Furia degli Idei che secondo me non meritava comunque peggior attore stranamente vince John Boyd per Mercy che non ho visto è uno dei pochi che quest'anno mi sono perso forse è uscito solo in America rispetto a un Russell Crowe l'esorcista del Papa non si fa contro Vin Diesel Fast X eh questa è tosta Chris Evans Ghosted il film con Anna De Armas su Netflix o Prime non mi ricordo Jason Staten per Meg 2 no dai su peggior attrice vince Megan Fox per Johnny and Clyde io pensavo Expendable 4 quindi i mercenari 4 in realtà no Anna De Armas era candidata con Ghosted va bene Salma Hayek Magic My Class Dance secondo me no dai Jennifer Lopez The Mother sì Ellen Mirren no per Shazam Furia degli Idei assolutamente no commenta queste intanto poi leggo dopo le altre però se non le vedo non è difficile ricordarmale tutte l'unica cosa che commento è Winnie Pooh se io fossi regista l'autore dello film di Winnie Pooh a quei livelli lui non può che essere contento di aver avuto visibilità tramite questi tre quindi io direi ma ci sarà il sequel ci sarà il sequel perché ha avuto se c'è allora un regista che fa un film del genere è palese che vuole avere visibilità lo fa per visibilità perché in questo modo acquisisce fama una fama pseudo negativa ma è pur sempre una fama perché il film è volutamente trash si vede che il film non è di quello stampo per l'incapacità dell'autore loro l'hanno voluto fare in quel modo quindi la visibilità che ha avuto tramite questo premio i Reyes Award è solamente un favore che fanno agli autori in modo particolare al regista che ha avuto il premio come peggior regia ma in realtà è una regia voluta questi premi ormai fanno ridere perché i registi semi sconosciuti sono contenti di essere nominati perché prendono visibilità i più famosi se ne fregano un cazzo quindi questi premi ormai se ne servono a ben poco ok ok se Russell Crowe se ne frega un cazzo di essere nominato nella Reyes Award che cazzo no però fa ridere capito magari non lo sa manco non lo so nemmeno ma la cosa che mi ha stupito è che Megan Fox ha vinto due premi ha vinto peggior attrice protagonista per Johnny & Clyde che sarei anche curioso di vedere se lo dessero su qualche piattaforma ma ha vinto anche la peggior attrice non protagonista in Mercenari 4 quindi doppia doppia statuetta per lei complimenti Megan anche se secondo me è stata scarsa ma non fino a sto punto vabbè perché il nome Megan Fox ci riporta indietro a Transformers quindi quello vince il peggior attore support quindi non protagonista stallone per questo no per Mercenari 4 anche qua vince nella categoria rispetto a Douglas di Ant-Man and the Wasp Quantumania Mel Gibson in questo film Confidential Informant non ho visto Bill Murray in Ant-Man and the Wasp Quantumania e Franco Nero dell'esorcista non ci sto non ci sto poi che cosa vince Winnie the Pooh ancora la peggiore combo quindi con Pooh e Pigol che sono degli assassini serial killer va bene Winnie the Pooh vince il peggior remake va bene peggior sceneggiatura e niente poi questi quindi in chiusura poi faccio commentare Frank il Mercenari 4 ha preso 7 nomination vincendone solo 2 Winnie the Pooh 5 nomination 5 vittorie è stato una sorta di Oppenheimer però al contrario è stato veramente bravo quindi The Pooh e gli altri poco o niente cosa dici? no niente l'ho detto prima serve a far pubblicità ad alcuni ad altri non hanno interesse quindi poi nei commenti iscrivetemi se siete d'accordo o meno con i vari premi se avreste se avreste messo altre persone o altri film o altri attori ok e chiudiamo con gli Oscar qua facciamo come il live da Nick quindi allarghiamo qui la cosa wow effetto Inception facciamo i recap i film che hanno vinto di più sono Openheimer 7 4 Poor Things 2 la zona di interesse ok andiamo dal miglior film come detto abbiamo Openheimer American Fiction Anatomy di una caduta Barbie Holdovers Killers of the Flower Moon Maestro Past Lives povere creature la zona di interesse allora io l'avrei fatto avrei dato un po' tutto a tranne alcuni premi tecnici tipo il sonoro o il montaggio se vogliamo a Openheimer no scusate Purfinks ma ha vinto Openheimer secondo l'annata ci può anche stare visto che quelli che potevano gareggiare erano due Openheimer e Purfinks perché gli altri Barbie a secolo ricordiamo così tanto per dire penso che nel complesso sia una scelta accettabile se avesse vinto una zona di interesse mi sarei incazzato se avesse vinto Killers of the Flower of the Moon mi sarei incazzato come anche gli altri Anatomy di una caduta avrei detto beh si dai ci può stare ma era due Openheimer e Purfinks tu che mi dici Frank niente da dire di quello che già abbiamo detto anche la settimana scorsa quando abbiamo fatto le previsioni probabilmente l'edizione degli Oscar più prevedibile degli ultimi anni da quando io seguo gli Oscar che è un bel po' quasi ormai vent'anni quindi direi che era prevedibilissimo che avrebbe vinto Openheimer per quanto io avrei preferito l'ho detto già mille volte Provere Creature sarebbe stato molto meglio per vincere quel film perché lo reputo una spanna sopra Openheimer però dispiace per l'Antimos o l'Antimos però io credo che si per lui non è ancora finito è appena iniziato sì sì ma poi ha già vinto è giovane è giovane relativamente giovane per essere un regista quindi a voglia ma poi ha già vinto con Antifinque con la favorita non mi ricordo se ha vinto proprio miglior regia ma ha vinto diversi premi delle attrici no non vince il miglior film no però ha vinto altri premi e secondo me dopo questo film sarà ancora più apprezzato in America perché è così che funziona gli Oscar se fa un film che piace ci sono più possibilità che tu venga richiamato fra virgolette miglior regista Oppenheimer poi c'è Anatomy de una caduta Scorsese non so perché ci faccia qui perché si chiama Scorsese essenzialmente Glazer ma sì forse Pantimos povere creature forse guarda come regia posso starci Oppenheimer comunque notevole è un po' più equilibrata con Poor Things ma è lo stesso discorso di prima onestamente io per mio gusto avrei fatto vincere povere creature però Oppenheimer forse più equilibrata ci può stare tu che dici? avrei fatto vincere anche qui l'Antimos perché la regia lì l'Antimos buona come Nolan non si discute registicamente non lo puoi discutere l'Antimos allora quando arrivi ai livelli di tutti questi registi qui vabbè il Jonathan Glazer io non lo conosco benissimo non ho visto il film quindi parlo più alto per l'Antimos Scorsese la Trier e Nolan quando arrivi a quei livelli lì la tecnica è perfetta non ci sono errori voluti quello che puoi non voluti non ci sono errori non voluti errori dovuti all'inesperienza o alla mancanza di talento quando arrivi a quei livelli tu sei un regista pieno e competente non sbagli ovviamente quello che fa la differenza sono le scelte artistiche le scelte artistiche che in questo caso vanno valutate con la soggettività perché ieri c'era quel ragazzo mi ricordo Gioello o qualcosa del genere che durante la nostra live o da Nick diceva che ogni inquadratura discorsese in Kill Less di Flavio Vermoon è una lezione di regia ma vale anche per l'Antimos vale anche per la Trier vale anche per Nolan che vuol dire perché a quei livelli sono tutti dei maestri perché hanno raggiunto una tale maestria nel loro mestiere che non li puoi non li puoi giudicare in base all'errore tecnico non lo puoi fare lo puoi fare li puoi giudicare in base alla alle scelte artistiche e quelle sono soggettive quindi a me può piacere può preferire a me io posso preferire le scelte che ha fatto l'Antimos nel Sufio qualcuno preferisce non qualcuno preferisce le scelte che ha fatto Scorsese ma è soggettivo quindi personalmente dalla mia soggettività le mie scelte artistiche le più interessanti le ha fatte l'Antimos per Poverle Creature perché Nolan è il solito Nolan registicamente parliamoci chiaramente è il solito Nolan Nolan diciamo si sta è come se avesse trovato un suo template registico e usa sempre quello usa sempre lo stesso ma anche da un punto di vista fotografico la fotografia dei film non sono sempre uguali è sempre uguale è sempre quella invece l'Antimos quantomeno ti dà qualcosa di nuovo e dal mio punto di vista ho visto prendere tutti i film di l'Antimos il primo suo esordio mi manca che non lo riesca a trovare in nessun posto dal mio punto di vista l'Antimos ha raggiunto l'apice artistico da un punto di vista registico non tecnico artistico è diverso quindi avrebbe avrebbe meritato l'altro migliore attore Silvia Murphy Oppenheimer di Cooper Maestro col mandomingo Rustin Giamatti Holdovers Jeffy Wright American Fiction sono d'accordo benché nessuno di questi cinque torri mi abbia fatto saltare dalla sedia perché Rustin cioè Domingo è stato bravo sì inaspettato però di Cooper l'ho visto al Festival di Venezia deludente sia il film che lui devo dire deludente Jeffy Wright è sopravvalutatissimo in questo film che egli stesso è sopravvalutatissimo Giamatti bravo ma un po' sopra le righe quindi Silvia Murphy quello che ha lavorato un pochino meglio se vogliamo anche se ho preferito altri attori in questa annata e lo scoprirete molto presto con i miei Spike Awards che sono questa settimana e quindi Silvia Murphy può essere una buona scelta ci sta poi io stimo tanto Cillian che ha fatto un sacco di bei film secondari che nessuno si è visto tranne me dove è molto bravo molto bravo quindi si merita questo riconoscimento prevedibile forse questa era la categoria più prevedibile ma perché il film ovviamente in cui è stato protagonista è vincente è risultato vincente perché Murphy è bravo volessimo fare un parallelismo tra i coefficienti di difficoltà della prestazione di Murphy e quella della Stone quella della Stone sia decisamente il suo ruolo è stato decisamente più difficile quindi Cillian Murphy è stato bravo però ha avuto anche la fortuna di recitare in un film vincente anche perché Cillian Murphy rispetto a Emma Stone lo dirò sempre Oppenheimer non è una sceneggiatura che fa evolvere così tanto i suoi personaggi sono molto come un pezzo di pietra di roccia cioè sono potenti ma fermi quindi Cillian Murphy fa se stesso per tre quarti del film non c'è una vera evoluzione Emma Stone evolve cinque volte nel film quattro cinque volte quindi è una cosa un po' diversa questo non c'è dubbio non c'è dubbio assolutamente che la la difficoltà che ha dovuto affrontare Stone Murphy bravo anche lui non facilissimo nel suo ruolo ma siamo due livelli di difficoltà diversi c'è da dire anche che non ha avuto grandissimi nomi che hanno fatto concorrenza Bradley Cooper è un buon nome ma non è un grandissimo nome Bradley Cooper è bravo è stato bravo il maestro però io Rusty non l'ho visto quindi non so che dire Giamatti è stato molto bravo anche lui forse era lui che poteva competere tanto con Murphy però il problema è che il film non è non è open eye America Fiction non l'hai visto quindi no America Fiction l'ho visto no ok ok Jeffrey Wright anche lui è stato bravo ma il suo personaggio non non è particolarmente apparescente nel film come in quanto a interpretazione c'è un personaggio abbastanza normale non lo vedo non lo vedo un personaggio così difficile si aratta fra l'altro molto bene proprio al suo aspetto normale quindi non ha dovuto fare nessun tipo nessuna opera di trasformazione come ha fatto anche un po' Killian Murphy che ha dovuto un po' trasformarsi anche fisicamente quindi Murphy meritato dai meritato e prevedibile ok miglioratrice Emma Stone Poor Things Annette Bening Nayad oltre all'oceano che è su Netflix Lily Glaston Killers of the Flower Moon che è su Apple TV Plus Sandra Huller ha fatto vedere una caduta che non so dove sia se non si trova è su piattaforme diciamo Carrie Mulligan maestro Netflix qua abbastanza semplice allora faccio questo discorso l'ho fatto anche ieri nella live durante la live di Nick se la Glaston avesse avuto una sceneggiatura che l'avesse messa al centro sarebbe stata forse una degna candidata per competere con la Stone che è davvero brava questa Lily che vedremo sicuramente nei prossimi anni ma quasi non parla è vero che comunicare con gli occhi è molto importante per un'attrice ma quasi è una coprotagonista compare molto poco e anche nel momento in cui ha dei dialoghi che non sono brillanti così brillanti quindi Sandra Puller anatomine di una caduta brava sì ma l'ho apprezzata meglio in altri film fra cui Sibyl della Triet stesso film del 2019 stessa regista film del 2019 qua fa la donna forte che fa la faccia dura insomma non ho visto sto gran lavoro ecco Carrie Mulligan brava sì brava maestro ci sta va bene va bene un po' sopravvalutata per questo Nayad onestamente sì è intensa ma insomma Emma Stone l'ho già detto riesce a evolvere almeno quattro volte durante il film dall'inizio poi io l'ho visto due volte in lingua originale il lavoro che fa sulla lingua inglese perché lei è una bambina essenzialmente ormai lo sappiamo spoiler e quindi evolve imparando i vocaboli e come comportarsi quindi poi cresce adolescente diventa una donna che conosce l'arte quindi ci sono un sacco di passaggi poi deve deve conoscere il suo corpo cos'è il sesso cos'è l'amore insomma è un ruolo fondamentale difficile come Murphy prevedibile anche questo Nihad la Bening si è un po' sovravvalutato più che altro la sua è stata una prestazione fisica ecco in quel caso perché se si è annuotato nelle acque insomma ha fatto comunque una prestazione più fisica che altro il film è più che altro il film che si è interessante porta con sé quella sempre quella dose di Girl Power in questo caso nemmeno abbastanza sobrio è un Girl Power giusto perché alla fine è una donna che ha fatto una delle più grandi imprese atletiche della storia dell'umanità quindi ci sta che venga messa in risalto anche come Girl Power questo è un buon Girl Power il film è il film che è un tantino sopravvalutato è un buon film però Killers allora il discorso che hai fatto sono d'accordo lì hanno giocato due elementi da una parte Killers of the flower Ron Moon che non è open armor dall'altra il personaggio di Lily che è un personaggio di supporto qua viene inserita come miglior attrice protagonista ma se andasse allora l'attore protagonista si semplicemente si valuta no si valuta si definisce dal minutaggio chi ha più minutaggio in un film è l'attore protagonista così funziona io non so se tra lei e DiCaprio lei ha il minutaggio più lungo secondo me ce l'ha DiCaprio quindi lei non è l'attrice non è l'attore il lead actor no? non è il lead actor del film è un personaggio di supporto Leonardo DiCaprio questo ha giocato tantissimo perché ovviamente non è lei al centro dell'attenzione aveva il jolly no? il jolly tribale e aveva il jolly indiano e su quello che lei a quello che lei doveva puntare però non è stato sufficiente perché la Emma Stone in questo caso si è mangiato tutto si è mangiato tutti e tutto ma Emma Stone povere creature è inarrivabile non non c'è competizione ed è stata una delle prestazioni più difficili degli ultimi dieci anni io non mi ricordo di aver visto la prestazione attoriale di Bello ripeto la difficoltà chi è del settore chi lavora e chi fa l'attore cinematografico sa bene a cosa mi riferisco la difficoltà che ha affrontato Emma Stone per fare questo personaggio è allucinante quindi ha dimostrato di essere probabilmente se non la migliore quantomeno tra le migliori cinque attrici al mondo questo è poco ma sicuro mi ritorno un protagonista Robert Downey Jr Oppenheimer Sterling K. Brown American Fiction Robert De Niro Killers of the Fire Moon Ryan Gosling Barbie Mark Ruffalo povere creature posso dire una cosa impopolare che intanto non capisco De Niro qui un po' come Scorsese vogliamo dargli questo onore con la nomination Sterling K. Brown che è il fratello di Bright nel film non capisco perché sia qui il film tratta certi temi scottanti e ce l'hanno buttato dentro ma non ha senso allora mettimi Defoe di Poor Things scusami eh Ryan Gosling lo sappiamo perché qua è inutile dirlo posso dire che a seconda visione in seconda visione ho trovato Mark Ruffalo molto più bravo rispetto a Robert Downey Jr che è bravo per carità è un premio alla carriera ha fatto uscire un video sulla vita di Robert Downey Jr sul canale dateci un'occhiata ve lo metto nelle schede è stato più bravo in alti ruoli e devo dire che è un po' troppo sopra le righe è chiaro che rappresenta un certo ideale che il film critica a modello americano a rivista che vuole vincere ad ogni costo ma Mark Ruffalo in certa scena soprattutto quando viene rinchiuso nell'istituto lì perché è impazzito ha dimostrato dei dettagli non da poco io avrei fatto vincere Mark Ruffalo fra questi nonostante voglia bene a Robert Downey Jr amo il suo Sherlock di Guy Ricci sia primo che il secondo è molto bravo per carità ci mancherebbe sì sì Ruffalo molto molto bravo molto molto bravo si è totalmente finalmente totalmente riscattato dal dall'MCIO e mi è piaciuto sia lui ma mi è piaciuto anche Robert forse Robert ha voluto ho già detto questo ha voluto far vedere che lui è bravo e ha esagerato la bravura del dottore sta anche nel dosare bene la sua la sua interpretazione forse lui a volte è andato un po' proprio per far vedere che era bravo e mi ha infastidito ma mi ha infastidito un po' Ryan Gosling vabbè non lo commento neppure Robert De Niro è lì perché è Robert De Niro quindi su questo però infatti non mi hanno dato niente lui lo sapeva pure la faccia si sapeva che si si vedeva che lo sapeva che non l'avrebbe vinto vabbè dai ci sta Robert alla fine Robert Downey Jr vogliono bene tutti cioè è un po' l'amicone dei Hollywood capito cioè ormai col personaggio che ha fatto di Tony Stark si è è diventato l'amicone di tutti no ma poi poi siccome ha fatto il video sulla sua vita ho scoperto molte cose nello specifico lui era andato molto vicino a vincere un Oscar con Charlotte ma non lo vinse poi ci fu tutta la storia della droga e quindi queste storie agli americani di chi si riscatta e diventa un bravo guaglione che dà consigli di vita mental coach piace tanto e quindi questo è un premio come per dire bravo dopo 20 anni ti sei riscattato sei diventato Iron Man ti sei fatta male dal pubblico non ti droghi c'hai una moglie fai yoga bravo Robert adesso te lo diamo il premio essenzialmente credo si 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 poi lui veniva da un periodo un po' così in cui diciamo le cose erano andate un po' maluccio perché i film che ha fatto non sono andati bene insomma non è stato un periodo facile per lui quindi va bene ci sta ci sta non ho nulla da dire va bene miglior attice non protagonista Divine Joy Randolph The Old Overs Emily Blunt Oppenheimer Daniel Brooks il coro e viola America Ferrera Barbie Jodie Foster Nia Adolteoceano qua è molto semplice per me Jodie Foster non ho capito perché sia stata nominata è un po' come la sua amichetta Annette Bening qua perché boh America Ferrera lo sappiamo tutti perché è qui e non voglio ripeterlo Daniel Brooks il coro e viola non ho capito perché è qui cioè io l'ho visto il coro e viola ma niente di che ma proprio niente di che è normale sarà il film il film che intriga diciamo per motivi ovvi quindi la lotta è a due ma io dico che Emily Blunt è stata bravissima cioè come definisco io una tice non protagonista una che ti ricordi più del protagonista io Emily Blunt me la ricordo più di Cydia Murphy è stata bravissima in quelle sette otto scene che ha fatto Emily Blunt mostruosa in questo ruolo poi Devine Joy Randolph è stata brava si riesce a essere incisiva riesce a essere quella un po' più con i piedi per terra perché con Tungia Matti esplosivo che va un po' sopra le righe la Randolph è quella a cui ci affezioniamo funziona è stata brava ci mancherebbe non dico che sia uno scandalo ma avrei fatto vincere la Blunt onestamente quindi va bene così per carità non sto dicendo non poteva vincere tutto Oppenheimer va bene la Randolph sì sì c'è vabbè qui hanno fatto vincere un po' anche la quota black dai la quota black la quota dai ci sono un po' di quota di inclusività vi dispiace per le mini Blunt miglior sceneggiatura non originale con Jefferson American Fiction Greta Gerwig e Noah Baumbach per Barbie Christopher Nolan per Oppenheimer Tony McNamara povere creature Jonathan Glazer la zona di interesse qua avrebbe dovuto vincere Poor Things ragazzi è di un livello superiore Oppenheimer per esempio la sceneggiatura non mi è sembrato il punto forte oltre il fatto che ci sono 40 minuti di troppo ma può essere opinabile questa cosa non ho visto sto grande sviluppo dei personaggi quindi sì è sufficiente ma non brilla di temi che è il punto più di forza del film sia la sceneggiatura che vi tiro dietro un libro cioè nel senso Poor Things invece sì che è la storia importante i dialoghi sono fondamentali bellissimi vabbè Barbie va bene va bene se ha l'interesse è una sceneggiatura minimale ma che avrebbe potuto colpire l'Academy non me American Fiction io lo trovo sopravvalutatissimo perché vuole fare il grande film che critica tutto l'inclusivismo e la quota black ma in realtà è tutto fumo e niente arrosto quindi da un certo punto di vista è il film giusto per vincere questa categoria degli Oscar e gli Oscar sono tutto fumo e niente arrosto quindi o vinceva American Fiction o Barbie secondo questo ragionamento quindi ci può stare nel senso ma io avrei fatto vincere Poor Things Frank sì avrei fatto vincere anche io Poor Things American Fiction è un po' il controcorrente della situazione con l'argomento che tratta far ridere io l'ho detto pure ieri far ridere vedere Barbie e American Fiction nella stessa categoria perché praticamente American Fiction tratta e critica proprio Barbie però dai va bene è comunque un film sfizioso interessante sotto certi punti di vista quindi avete fatto vincere quello io poi avete creduto questo è sicuro mia sceneggiatura originale Justin Triett e Arthur Harari Antomi di una caduta David Emingson The Oldovers Buddy Cooper e Josh Singer maestro Sammy Birch Alex Mechanic Madeis Amber Celine Song Past Lives Past Lives per me è una sceneggiatura terrificante una delle cose più brutte che abbia visto come soppopera brutta mamma mia Maestro sceneggiatura un po' carente magari colpisce per il lato visivo sicuramente fotografia ma sceneggiatura mediocre onestamente Madeis Amber idea carina però sul più bello se la fanno sotto nel senso che il film su certi momenti non insiste troppo senza dire senza fare spoiler ecco Oldovers è un po' più strutturata scritta meglio sicuramente vuole fare anche ridere a me non ha fatto ridere tolto alcuni momenti ma sicuramente la Triet e Harari meritano questo premio fra questi fra queste scelte nonostante il finale aperto non mi sia piaciuto per niente è un film molto solido anche a livello di scrittura funziona c'è l'inserimento del cane il figlio è centrale nella vicenda funziona anche la parte del processo interessante funziona c'è poco c'è poco da dire questo è probabilmente se non il premio più meritato insieme a quello di Amazon è fra i premi più meritati tutto qui past live vabbè diciamo sta mi hanno fatto scendare Waller poi c'è magari a chi è piaciuto tantissime si sono commossi miglior film internazionale zona di interesse io capitano perfect days la storia della neve la sala professori posso essere contocorrente nel senso che io sul canale ho criticato molto perfect days nel senso che per me è un documentario più che un film quindi non l'ho preso sul serio io non prendo sul serio i documentari ma rispetto a questi è un gran film cioè Wim Wenders sa fare il suo lavoro ed è bravissimo a suscitare emozioni con la regia con la fotografia poi è un film giapponese scritto da un tedesco non è cosa da poco io capitano per me è sopravvalutatissimo nel senso che il film si tira indietro sul più bello stanno arrivando sulle coste italiane e il film finisce ma cos'è troppo facile troppo facile la zona di interesse non mi è piaciuto cioè è fatto bene per carità ma non non lo so il nulla ho odiato la società della neve mi ha molto deluso perché io apprezzo molto Bayona il regista questo film che vorrebbe essere d'impatto ci sono cinque stronzi che per tutto il film piangono dormono urlano e guardano il cielo che sembra uscito da una rivista di Vogue non ho sentito la neve la visceralità l'urgenza la morte che dovrebbe essere al centro di questo film visto che parla di questi tali che con il loro aereo precipitano su una montagna senza mangiare senza bere vabbè sono professori non l'ho visto me l'hanno parlato un po' così così ma non mi ispira tantissimo dicono che il sospetto di di Vintenberg ha fatto male e ci credo manco a me è piaciuto come si chiamano lì la società della neve io capitano mi è piaciuto mi avrebbe fatto piacere che l'avesse vinto sinceramente perfect days a me questo manca a me il perfect days forse è l'unico film che manca ancora insieme a Rusty uno dei pochi film che mi mancava ah pure la soluzione la soluzione pure non l'ho visto quindi me ne mancano mi mancano questi due forse è stato io allora sono all'interesse ancora non l'ho visto quindi io essenzialmente qui posso commentare io capitano e la società della neve capitano mi è piaciuto ma anche a me per quanto io apprezzi Bayona io capitano non ho visto gli altri però io capitano secondo me se avessi vinto l'Oscar l'avrebbe l'avrebbe meritato perché a me è piaciuto nemmeno poco quindi peccato peccato per l'Italia quanto meno ci siamo come dire ci siamo fatti vedere era da un po' che mancavamo che mancavamo su gli Oscar quindi beh lo voglio dire qua ma è un'ovvietà per me lo scoprirete e poi nei miei Spike Awards i miei Oscar e i miei razzi sabato domenica prossima qua manca Rapito di Marco Bellocchio è uno scandalo a cielo aperto ma questa è un'altra storia miglior film d'animazione il ragazzo è l'airone Spider-Man Cos the Spider-Verse Elemental Limone e Mio Amico Robo il Mio Amico Robo esce fra un mese anche in Italia ma comunque è il minore Limone l'ho visto su Netflix carino Elemental filmetto della Disney si ha una bella grafica bella CGI ma davvero un film vecchio sembra un film non lo so del 2005 come storia vuole essere un po' ecologista un po' abbracciare e unire i popoli ma è sterile con la solita storia d'amore con il solito finale con la tipa tosta che è una fiamma perché sai your power donna tosta indipendente mentre il ragazzo è acqua chiaramente perché deve calmarla si Disney si ed è un flop è stato un flop e ho goduto tantissimo Spider-Man Across the Spider-Verse avrebbe vinto per me uno dei migliori film di questo 2023 a mani basse ma ha vinto il ragazzo è l'airone questo è un premio politico per la carriera di Miyazaki come per dire premiamo anche il cinema orientale è un film che è piaciuto molto capolavoro da alcuni per me è davvero un filmetto a livello di sceneggiatura poi è bello da vedere sì ci mancherebbe Miyazaki è un grande regista è a fatto dei film che mi sono piaciuti tantissimo 3-4 sono bellissimi quindi ci sta ci sta che possa piacere mi dispiace per Across ma Into the Spider-Verse vinse quindi il primo capitolo ha vinto questo no magari il terzo vincerà ancora Frank sì io sono d'accordo sulla questione Miyazaki per me alla carriera come è stato per Nolan ci sta Miyazaki ha fatto dei capolavori dell'animazione in dubbi io appunto da appassionato fra l'altro della Ghibli non posso che non posso negare questa cosa va bene dai ci sta io a me lo sai che io non sono un gran fan di Spider-Man Across the Spider-Verse che del primo mi è piaciuto a me il primo che sono Elemental lasciamo perdere Elemental è una vergogna che sta là in mezzo gli altri due non li ho visti però va bene dai va bene Miyazaki cioè ci sta direggio quindi va bene così ok miglior fotografia Oppenheimer El Conde Killers of the Flower Moon maestro povere creature El Conde è un fake fake bianco e nero io odio i film che hanno il fake bianco e nero che si vede che sono a colori ma ci lo mette il filtro ho fatto bene il filtro per carità vabbè niente Killers non capisco sì alcune scene soccarine con le fiamme e tutto però si è fatto di meglio lo stesso Scorsese ha fatto di meglio nei suoi film ma perché maestro ha senso perché il suo bianco e nero è un po' più genuino vuole essere anche nostalgico come le vicende dei protagonisti Oppenheimer non capisco perché abbia vinto perché sia stato nominato soprattutto è il solito film di Nolan c'è niente di che ho trovato fotografie migliori in per esempio Interstellar The Prestige altri no? vabbè Dark Knight per dirne avrebbe dovuto vincere povere creature ci sono momenti ragazzi fotografici non solo in CGI ma anche fotografia reale all'inizio del film quando sono nella casa nella magione momenti pazzeschi davvero fotograficamente dico qua non c'era gara e quando ho visto che Oppenheimer ha vinto anche la fotografia ho detto vabbè abbiamo capito come va quest'anno oh vabbè ho i tema ho i tema cioè non è un primo scemo qualunque voglio dire lo so che non è il primo scemo però nel senso si poteva fare di più sì si poteva fare di più e il conte manco io vabbè in certi momenti ci sono belle atmosfere nel film il conte però anche io non è che capisco perfettamente anche perché il film è veramente una stronzata colossale povere creature da un punto di vista fotografico è sicuramente la cosa più bella che c'è in questa categoria ma non solo per le luci proprio anche per la composizione per alcune scene per la scelta delle lenti tutto cioè la fotografia in povere creature è espressiva è narrativa in Oppenheimer è la solita fotografia da Nolan cioè non ci ho visto questa creatività quindi io avrei premiato Robby Ryan però è oite ma forse il nome ha fatto anche ha avuto una certa importanza nell'astignazione del pre questo è sicuro scenografia povere creature Barbie Killers of the Firemoon Napoleon Oppenheimer questa è l'unica categoria forse che ha un minimo di senso perché Barbie qua in effetti ha lavorato sulle scenografie non avrebbe mai vinto Killers non ha senso che sia qua non ha senso è una cittadina triste stile Far West cioè guardate due negozi non ho capito Napoleon avrebbe più meritato Scott fa un lavoro a livello visivo poi non può piacervi la sceneggiatura vabbè ma che lavoro fa a livello visivo con le scenografie ah e Scott manca nella miglior regia non l'ho detto prima Oppenheimer si no la sfida era due Napoleon e povere creature io avrei fatto vincere Napoleon con tutto il rispetto ah forse si forse Napoleon era l'unico premio che magari dove aveva diciamo è meritata la nomination costumi pure in realtà però probabilmente Napoleon non è proprio piaciuto l'Hackademy proprio un quanto film hanno premiato povere creature per me sta bene poi però sembra cose che gli abbiano voluto dare il contentino a povere creature dicendo guardate che ti diamo questo poi ti diamo solo Emma Stone non ti diamo più niente sembra cose che abbiano voluto commettere l'isalto ma comunque sia costumi che scienze tanta roba sì sì ma infatti è la seconda scelta secondo me non è che stiamo dicendo Barbie però però vabbè migliori costumi simile povere creature napoleon o Oppenheimer sia uguale qua l'hai fatto vincere forse povere creature perché napoleon i costumi sì ma fino a un certo punto povere creature qua sì 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 povere creature va bene miglior trucco qua non sono d'accordo perché povere creature è vero c'è Defoe che fa lo scienziato pazzo quindi sì sto Golda non so cosa sia maestro maestro avrei fatto vincere maestro perché si è fatto un gran lavoro proprio sul trucco e l'acconciatura per far invecchiare i due protagonisti si è fatto un gran lavoro secondo me avrei detto maestro però se ha vinto povere creature io va bene va benissimo Frank sì sì ma allora io lo ripeto l'ho detto per ieri per me se povere creature avessi vinto tutto io sarei stato l'uomo più felice sulla faccia della terra quindi va bene migliori effetti visivi qua non ho visto Godzilla Minus One non sono riuscito a vederlo incredibile l'unico nel mondo che non l'ha visto sì ma perché tu hai fatto il tasso che è tutto qua in Italia è uscito lo davano al mio cinema in tutte le città tranne Bologna Bologna no non piaceva quindi l'hanno tolto vabbè Godzilla Minus One Bologna la città la città del cinema non c'è no ho detto no è troppo stupido Godzilla vabbè allora bellissimi giapponesini che sono andati in lago con i come si chiama i bazzetti qua io avrei premiato Guardiani della Cassa Volumetaria perché sono i migliori anche The Creator ha dei begli effetti ma sono limitati in tutto il film perché hanno speso poco relativamente poco Napoleon buf sì le scene con le navi però qua avrei premiato per una volta James Gunn che ha fatto un gran lavoro a livello di effetti speciali non c'è mai l'effettone fake stile The Flash quindi funziona bene Guardiani 3 il fatto che non abbiano premiato Guardiani della Galassia è è un'ulteriore dimostrazione che ormai l'MCU manco per quello che era il suo punto la sua punta di diamante viene più presa in considerazione cioè gli effetti speciali io credo che non è che so gli Oscar a dirlo sono altre cose che ce lo ce lo evidenziano molto chiaramente ma i MCU sono ormai addirittura sul lettifilo di arrivo penso che dureranno ma lo sanno infatti Kevin ma infatti Kevin Feige è tornato a prendere in mano la situazione hanno richiamato il vecchio presidente stanno cercando di ma non ci fanno niente ormai non vanno a nessuna parte no non è detto se cioè se prendono due tre film che incassano tanto magari ci provano però la credibilità è a zero ormai anche per i fan hanno fatto delle scelte che ovviamente i fan gli hanno fatto pagare delle scelte che purtroppo si stanno rivelando si stanno rivelando problematiche per tutte le produzioni che fanno quelle determinate scelte sai a quali scelte mi riferisco e finché queste produzioni non capiranno che la loro questa loro nuova politica dell'inclusivismo spicciolo non li porterà da nessuna parte perché il pubblico si è rotto il cazzo di di dover come dire di dover vedere determinate cose all'interno dei film e delle serie tv e fin quando non lo capiranno non si è andrà da nessuna parte se loro insisteranno su questo approccio con questo approccio è il destino di molti di molte case di molte di molte serie di molti firm in questo caso l'MCU purtroppo è destinato alla fine molto molto presto quindi devono cambiare rotta da quello che hanno da quella che hanno intrapreso negli ultimi anni non parlo solo l'MCU ma parlo ad esempio tanto per dirne una dato che mi interessa links of power devono cambiare rotta totalmente non possono continuare sulla strada che hanno intrapreso se dovessero continuare io non vedo non credo che la serie vada avanti vada avanti ancora per molto e questo risultato questo non risultato dell'MCU anche agli Oscar è la palese dimostrazione siamo passati dalla collezione di Oscar fatta da Black Panther a questa alla mancato Oscar persino negli effetti speciali che ha vinto con Godzilla io aggiungo una cosa sull'MCU che devono anche tornare a scrivere delle storie con dei personaggi veri perché nonostante io non abbia mai apprezzato la Marvel ma sempre è stato lato di sì perché a me piacciono le storie dove la gente si dà le pacche sulle spalle buoni sentimenti grandi poteri grandi responsabilità le prime tre fasi erano intriganti perché c'erano dei veri personaggi a cui ti affezionavi anche un piccolo ruolo come occhio di Falco adesso questi personaggi sono sempre meno c'è sempre questa voglia di dirti ah lei è la tipa tosta giovane ed è Black poi c'è la tipa tosta bianca poi c'è quello là che rappresenta la minoranza perché è Eternals non va bene devono essere dei veri personaggi con delle vere storie cosa che non arrivano più perché non li scrivono più questi personaggi semplicemente e in film semplici come quelli dell'MCU quello che conta era il personaggio perché anche un film come Capitano America è il primo vendicatore che è un filmetto io lo trovo gradevole perché c'è la crescita del personaggio di Cap senza quello non c'è niente ok quindi e questo è il senso del mio discorso miglior sonoro zona di interesse del creator maestro Dead Reckoning parte 1 Oppenheimer io sono d'accordo che vinca la zona di interesse perché il sonoro è davvero un punto di forza senza fare spoiler a Frank che vuole vedere il suo film il sonoro e il fuoricampo è fondamentale quindi il sonoro è usato come elemento narrativo ci sta anche Oppenheimer con l'effettistica delle bombe funziona per carità però è più interessante nella zona di interesse vuoi commentare anche se non hai visto la zona di interesse sono interessato sono interessato a vedere la zona di interesse vediamolo perché io non l'ho visto ancora quindi da quello che ho capito il sonoro è molto importante quindi sono molto curioso miglior con la sonora originale Goranson per Oppenheimer Karpman American Fiction John Williams Indiana Jones e Quarante del Destino Robertson Killer Software Faller Moon Fender X Povere Creature allora John Williams non capisce perché sia qua perché è la stessa di Indiana Jones riproposta ma perché mettete altro ma su dai sul serio è John Williams sì ho capito ma è sempre lo stesso film cioè non è che ne ha fatta una nuova e dici beh ha fatto una nuova con la sonora di Indiana Jones è la stessa riadattata al film insomma di Mangold vabbè Killer Soft The Flower Moon forse non lo so tribale indiani ma lo so American Fiction io neanche me la ricordo manco me la ricordo questa zero no infatti Oppenheimer non manco io ho capito Oppenheimer ci sta che Goranson è bravo ci sono momenti interessanti Purphings qua è alla pari 50 e 50 Purphings Oppenheimer va bene uno e l'altra è una scelta soggettiva qui se uno vuole dire Oppenheimer ok se vuole dire Fender X ok va bene che mi dici sì sì qui alla fine Goranson ci può anche stare American Fiction manco io me la ricordo John Williams è John Williams quindi sta lì Killers io non mi ricordo manco quella di Killers in realtà e povere credore è quella un po' più raffinata ed elegante John Jeskin Fendrix è un accademico è un compositore di accademia e quindi è meno evidente ma è molto più sofisticata io vabbè Goranson va bene dai richiudiamo miglior canzone originale io qua non dico niente perché le canzoni non me le ricordo mai mai non mi ricordo neanche quello di Billie Eilish figurati può vincere chiunque qua per me è uguale comunque vince What Was I Made For è l'unico Oscar di Barbie aveva due nomination su cinque sarebbe stato ridicolo se non avesse vinto no? poi dopo questa categoria facciamo un discorso generale e chiudiamo la live no? no 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 io su questa categoria io l'ho detto miliardi di volte Billie Eilish vince tutto dove la metti vince io non lo so come cacchio fa ma è così quindi non gli vuoi di niente vince tutto ogni cosa e va bene così perché alla fine è brava un po' troppo forse un po' troppo preveribile anche questa vittoria sì infatti io inizio a fare il discorso generale dicendo semplicemente questo è stato il festival più prevedibile da quanto lo seguo da quanto seguo questa questa questo festival da quanto lo seguo insomma è stato il è il più prevedibile di sempre ripeto da quando io lo seguo penso di averle indovinate quasi tutto infatti ieri quello che non ho indovinato è perché appositamente non l'ho voluto indovinare come Barbie per la sceneggiatura perché ho voluto fare tipo ho voluto mettere il 2 Juve Juve Domodossola però ovviamente era assurdo far vincere Barbie però ci ho provato perché ho detto vabbè vuoi vedere che è così prevedibile se Oscar sì sono gli Oscar più prevedibile di sempre soddisfatto sì poteva andare meglio sì da un certo punto di vista mi ha sorpreso perché dopo due anni di cose folli e di scelte folli mi sarei aspettato che Barbie vincesse di più non dico miglior film miglior regia ma 4-5 premi tipo miglior costumi miglior scenografia miglior canzone miglior minchiate perché mi aspettavo che volessero un po' cavalcare l'onda è come se negli ultimi due anni dopo delle scelte bizzarre non tanto gradite dal pubblico generalista abbiamo detto ma meglio che tu deviamo fare le cose seriamente quindi qualcosa a Purphings dobbiamo pur darla o Penheimer sì ma anche gli altri devono vincere qualcosa non è che possiamo dare 5 Oscar a Barbie e 0 a Purphings quindi mi ha un po' sorpreso questo però Penheimer ha 20 premi tecnici e diciamo secondo me un contentino è stato dato a Purphings con Emma Stone e con dei premi minori sono contento per Killers of the Firemoon perché oltre che godere soggettivamente è un film che non meritava di stare là io ve lo dico quando mi dicono Emma Scorsese ok quindi con questo ragionamento ogni anno noi dobbiamo nominare Ridley Scott Cameron Spielberg e Scorsese quindi quattro posti fissi sono occupati perché quello si chiama Scorsese no cioè dipende dal film e dall'annata se Scorsese fa un film come ai livelli di Toro Scatenato gli dico guarda Martin puoi vincere tutto se mi fa la brutta copia di Irishman no non è un discorso che non stimi Martin Scorsese e che ha fatto film migliori secondo me questo qua è il peggiore film degli ultimi dieci anni di Scorsese e perché dobbiamo dargli premi perché c'è la quota indiani poi che il film sia coraggioso sono d'accordo è coraggioso il film sì ma non è che dobbiamo premiare il coraggio ma il risultato quindi è questo maestro resta a zero banale e anche altri restano a zero la zona d'Italia se mi ha sorpreso fino a un certo punto quindi i premi sono anche giusti tra virgolette poi esclusi eccellenti ce ne sono però tutto sommato sono un po' dispiaciuto per Across the Spiderverse ma per il resto ci sta ok chiudiamo io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito è stato interessante quindi vi invito a iscrivervi ai nostri canali abbonarvi scriverci sotto per avere un po' di discussione condividete il mio e quello di Cinefranc e ci vediamo alla prossima ciao